Dopo il passo falso di sette giorni fa la Sangio cambia per necessità qualcosa nella formazione titolare che nella trasferta inedita di Sasso Marconi ritrova da subito scarpelli tra i pali ma deve lasciare in panchina Mugelli fermo per infortunio al suo posto bordo e Bucaletti davanti al posto di Chechi. Per il resto confermato il canonico 4-2-3-1. I gialli bolognesi rispondono con il medesimo modulo e con tutti gli effettivi a disposizione. Arbitra oggi Boscarino di Ragusa le immagini sono di Nedo Marziali. Al quinto è subito Sangio con una bella azione sulla destra la palla messa al centro con Scoscini che mette alle stelle. Poco dopo Jukic si gira bene in aria. Un tocco di mano fa gridare tutti al rigore. L'arbitro non è di questo avviso e lascia proseguire. Vibranti comunque le proteste. Al sesto arriva però la frittata. La difesa a San Giovannese sbaglia tutto. L'ex giocatore del Sassuolo Noselli ne approfitta. Riesce a tenere il pallone in campo e mette la palla dentro per l'1-0 shock. Al dodicesimo Cerneso fa tutto bene e prova a rispondere. La palla però è debole e Monari blocca comodo. Dalla parte opposta della Rocca scaglia un buon tiro dalla tre quarti fuori. Al sedicesimo penalty per la Sangio. La palla viene toccata con la mano da Cattabriga. L'arbitro non ha dubbi e assegna la massima punizione. Jukic dagli 11 metri si fa intuire la battuta ma la palla entra comunque per il pareggio che rimette tutto a posto. Al quarantesimo il Sassu Marconi si fa di nuovo pericoloso con Noselli che disforbiciata non trova lo specchio della porta. Al quaranticinquesimo Tonelli scarica il destro verso la porta di Scarpelli. La palla deviata spiazza il portiere ma va ampiamente fuori. Il primo tempo se ne va così con un giusto 1-1. Nel secondo Jacobelli prova a cambiare le cose inserendo i titolarissimi Chechi e Capitan Mugelli. Ingresso che dà subito i suoi frutti sulla punizione. Infatti Chechi ci mette il piede e Monari il guantone per deviare in angolo. Al sedicesimo ancora Chechi trova il set da calcio di punizione ma ancora le mani di Monari tolgono il pallone del sorpasso. Sorpasso che per poco non avviene sul calcio d'angolo dal colpo di testa di Jukic che mette fuori. Al trentesimo lo spunto di Nannini porta al sinistro del centrocampista. Pallone salvato dalla difesa ancora in corner. Tre minuti più tardi il pericolo arriva nell'area di Scarpelli. Piccardi a tu per tu con il portiere sangiovannese non riesce ad angolare ed è così che la Sangio si salva con una parata di piede. Passano altri cinque minuti e Cortese trova la testa di Della Rocca. Bravo a colpire ma sulla traversa. La Sangiovannese ci crede però alla vittoria e al quarantaquattresimo Bini dal centrocampo si invola fino a dentro l'aria. Un difensore giallo lo ferma dopo un 1-2 finché la sfera non va in angolo dopo un controcross. Al quarantasettesimo c'è tempo anche per il rosso a Della Rocca che era andato a spingere il battitore di una punizione sulla trequarti Sangiovannese. Finisce però così. Pareggio tutto sommato giusto anche se ad occasioni la Sangiov forse ne ha contate di più. Classico punto salvezza che accontenta un po' tutti. Buon preludio al turno infrasettimanale di mercoledì. Dunque 72 ore e in casa arriverà il Castelvetro. Mister, un sasso Marconi che si è meritato questo pareggio. Una partita dai mille volti non è stato facile. Sembrava una partita probabilmente che potevate vincere. Fino a un certo punto poi è risalita la Sangiovannese e vi ha schiacciato. Sì, ma sapevamo che era una partita difficile da interpretare perché sta facendo bene la Sangiovanese. È una squadra che gioca bene, tiene bene il campo. Infatti ci ha fatto giocare, non come sappiamo, abbiamo ammazzato un po' troppo la palla. Anche se poi nel secondo tempo ho visto qualche azione positiva come avevamo preparato. Il discorso è che mi dispiace perché è stata un po' nel secondo tempo un pochino influenzata dall'arbitro. Non mi piace dire però non si può su un fallo, su un Oselli, sulla tre quarti, non ammonire e dare la seconda ammonizione al giocatore. Mancavano dieci minuti alla fine e era troppo plateale. Quindi alla fine è stato ammonito il nostro per proteste. C'è una decisione di poca lucidità, questo mi dispiace. Il rigore secondo me ci può stare o non perché è ribazzato sulla mano ma lo ripeto molto generoso. Quindi c'è un po' complicato. Però è chiaro che se uno va a vedere la nasa partita forse nel secondo tempo qualche cosa in più noi a livello di azioni un po' più pericolose abbiamo fatto e nel primo tempo hanno giocato meglio loro. Quindi il pareggio ci sta. Mister, dicevamo fuori dai microfoni un po' da maro in bocca perché comunque la Sangiovanese soprattutto negli ultimi minuti poteva far gol. Per esempio quel Bini ha fatto una cosa pazzesca alla fine. Sì, ma anche il primo tempo secondo me abbiamo fatto... Purtroppo soffriamo di befanite in questo periodo perché domenica scorsa e oggi abbiamo regalato due gol veramente a chi li ha visti secondo me si mette le mani ai capelli perché anche oggi abbiamo regalato un gol incredibile. Però la squadra è stata brava perché loro una volta che ho visto altre partite una volta che sono andato in vantaggio qui, soprattutto con la Pianese, era difficilissimo trovargli i varchi perché si guidovano bene. Invece siamo stati bravi a recuperarla e penso che alla fine, credo, è che ai punti meritavamo qualcosina in più noi. Il gol è il secondo, il primo la scuola settimana condizionato dal vento. Questo invece è stato un errore della difesa. Perché secondo lei? Ma si sono capiti male secondo me tra Bini e Scarpelli. A parte lì la palla obiettivamente ogni tanto io lo so, io sono uno che vuole sempre giocare a calcio però ogni tanto la palla va anche buttata via. Si sono capiti male, lì la palla secondo me andava messa più sull'esterno che all'interno però potevamo anche appoggiarla in fallo laterale. però io voglio una squadra che giochi a calcio perché noi non abbiamo fisicità. Noi bisogna arrivare in porta attraverso il gioco perché abbiamo Cerneso che è veloce, Jukic che è tecnico, Bindi che è tecnico, Chiechi che è tecnico. Non siamo una squadra che buttà palla via su perché non abbiamo parola nelle caratteristiche. Arriva il turno infrasettimanale, senza sosta questo campionato, arriva il Castelvetro in casa, c'è da rifiatare perché c'è pochissimo tempo. Sì, domani ci ritroviamo, faremo un po' la conta di chi... però qualcuno secondo me è un po' stanco. Perché in alcuni posti abbiamo pochi ricambi per gli infortuni di Papini, di Bilai, quindi Coadio deve sempre giocare, Calori ha 38 anni e ha quasi sempre giocato, Bini ha sempre giocato, Nannini ha sempre giocato. Noi qualche ricambio in più l'abbiamo metà campo con Bordo, manca anche Bindi Emanuele che ci potrebbe dare una costa a mano, speriamo di recuperare Papini, mentre davanti qualche ricambio ce l'abbiamo, quindi Vidi Camilli, però sono pochi, sono tutto dietro e mi tocca far giocare anche gente che secondo me è un po' stanca.